buonasera amici di abitare siamo qui davanti alla fattoria via casilina 704 ma non volevo fare nuovamente la pubblicità perché ci sono domenica per una festa e quello che voglio mostrarvi invece è in questo cassonetto già abbiamo fatto un articolo su abitare e ma adesso ve lo voglio mostrare in video e raccontarvi un minimo di storia allora è sabato sabato 7 maggio tre giorni fa e 14 e 30 del primo pomeriggio si avvicina qui un camion della centrale del latte e guardate cosa ha fatto no non so se scherziamo è oltre mezzo cassonetto perciò sono centinaia di litri questo è il latte della centrale parzialmente scremato se vedete bene voglio dire e credo si possa vedere la scadenza è 13 maggio cioè l'hanno buttato gettato qui dentro il giorno 7 questo invece è latte intero uguale 13 maggio guardate posso prendere un litro perché era talmente portata di mano eccolo qua vedete 13 maggio cioè ancora si potrebbe bere l'hanno gettato il giorno 7 insomma voi pensate che ci sono nel nostro municipio decine e decine di associazioni che fanno i salti mortali per mettere su dei pacchi dei pacchi viveri per famiglie meno ambienti insomma chi ha veramente problemi e qui centinaia di litri di latte gettati ho avvisato il presidente del municipio l'assessore all'ambiente e chiaramente non ho avvisato ama insomma poi qui pure questa è una cosa da sfatare i cittadini segnalano alle istituzioni più vicine e queste devono darsi da fare per evitare insomma i cassonetti romani ci sono intorno rifiuti di ogni genere plastica non ritirata che deborde che rimane in terra chissà quanto tempo sacchetti di immondizia materazzi carcinacci chi più ha più ne metta e qui addirittura il latte fresco lo chiudiamo ancora con qualche fotogramma questo è il latte intero e questo è il latte parzialmente scremato arrivederci a tutti questa è via casellina e qui sulla destra il parco di cento acelle